e partiti Bortagnoli, Giulatti, Cattane, Frempe, Pocas, Cattane, Frempe, Pocas, Frempe, Guariglia, guacca, 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 il ciclo, ma nuova, il ritirizzo è partito dalla linea 1, Bortagnoli, prima posizione per numero 76, seconda posizione per 2,9, verso, troviamo Davide Cattane del Caravaggio, a prendere la tua giunta per il rai del Caravaggio, Cattane, Cattane, Frempe, quindi non le dirà, niente in più, ancora abbiamo il Bortagnoli, dell'Azeglio Magnaresci, seconda posizione per l'altro, Franco Bernato, e Quarta, Oltottese.